Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna per traffico intenso tra il bivio di Firenze Nord e quello della variante di Valico. In A11 stanotte dalle 22 alle 6 chiusa l'entrata di Prato Ovest in direzione Firenze per lavori. In A12 fare attenzione per vento forte tra Pisa Centro e l'allacciamento con l'Aurelia. Sulla Fibili per intervento di riprissino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie a tutti.